Ciao ragazzi, benvenuti nel nuovo video della TuttoTech. Oggi parliamo di Dado, termostato che può essere collegato al vostro assistente vocale e vi dà una miriade di informazioni e di possibilità tramite l'applicazione. Prima di poter andare ad installare il prodotto, come nostra consuetudine, faremo un unboxing, vedremo un pochettino insieme le varie funzionalità, come si installa, come si fa a riconoscere il nostro assistente domotico, ma prima di questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, tanto non vi costa nulla, e attivare la campanellina, così non vi perderete i prossimi video. E già che ci siete, guardatevi la nostra sigla! Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a fare l'unboxing del nostro prodotto. Come vedete già la confezione si presenta, dai, bella, bella. Allora, questo è il manuale, se per caso volete chiamare un installatore professionista, quindi non fate noi e lo togliamo. Il termostato, un foglietto adesivo, evidentemente per poter indicare i vari collegamenti che faremo, poi vediamo se ci servono o no. Le viti e i tasselli per poterlo fissare al muro. Qui hanno fatto una cosa intelligente, hanno messo questo foglio dove, se per caso abbiamo più valvole o più prodotti, possiamo andare ad indicare per ogni stanza il nome e il prodotto che abbiamo installato. Questa è una guida di benvenuto. Dopodiché abbiamo il bridge, questo fa da ponte tra il modem e il dispositivo, il termostato. Il cavo Ethernet per poterlo collegare al bridge e al modem, evidentemente per poterlo configurare, dopo entraremo un po' più nel dettaglio. E il cavo USB-USB-C per poterlo alimentare. L'alimentatore con sia presa italiana che quella estera. Ma adesso, fatto l'unboxing, procediamo con l'installazione. Per prima cosa andate a scaricare l'app della Tado. Io precedentemente ho già eseguito questa operazione e qui ci dice di creare un nuovo account. Quindi facciamo Crea Account. Qui inserisco un po' di dati e ci vediamo dopo. Vi chiederà una serie di dati, tra quali nome, cognome, mail, una password che dovete inventare. Arriverete a questa schermata. Cliccate sul tasto Crea Home. E qui ci chiede altri dati sensibili, quindi ci rivediamo dopo. Dopo aver inserito ulteriori dati, date un nome alla vostra casa e cliccate su Avanti. Inserite ulteriori dati, date il fatto, inserite il nome che volete dare a questo dispositivo. Io metterò iPhone Miki. E facciamo Crea. Vorrebbe inviarci delle notifiche. Facciamo Consenti. Attiva la geolocalizzazione e diamo Attiva. Noi a questo punto gli diamo Consenti quando utilizzi l'app. Adesso dobbiamo andare ad installare il nostro dispositivo. Quindi clicchiamo su Aggiungi dispositivo. Termostato intelligente. Ed ora ci dice di registrare il nostro bridge. Clicchiamo su Inizio procedura di registrazione. Acconsentiamo ad attivare la fotocamera. E adesso scannerizziamo il QR code. E clicchiamo Registra. A questo punto ci avverte di connettere il bridge direttamente con il cavo Ethernet al modem e alimentarlo o con l'USB del modem oppure con l'alimentatore dato in dotazione. Collegato il bridge con il cavo Ethernet come vedete qui in figura e alimentato tramite il modem ha riconosciuto il bridge e si è connesso al nostro server. Clicchiamo su Continua. Adesso dobbiamo effettuare la registrazione del termostato. Quindi inizio procedura di registrazione. Scannerizziamo il QR code che è presente sul termostato. Vi basterà poi cliccare su Registra. Qui ci dice di rimuovere la linguetta che è inserita tra le batterie e il termostato stesso per far sì che si alimenti. Tolta la linguetta vi comparirà la scritta Hi Tado sul termostato. Clicchiamo su Avanti. Ora come potete leggere ci dice di tenere premuto il tasto in basso a destra sul termostato per 3 secondi per far sì che si avvii l'abbinamento. Tengo premuto. Compaiono i simboli che vedete in figura. Il dispositivo si è connesso. Ci compare sia qui sul nostro smartphone che sul termostato è comparso un simbolo. quindi vuol dire che siamo a posto e correttamente connesso al nostro server e facciamo avanti. Ok. Qui ci dice che è tutto configurato correttamente ed ora arriva il bello. Istruzioni per l'installazione. Clicchiamo qui. Non ci sono manuali strani piuttosto che viene tutto indicato tramite l'applicazione. Selezionate il vostro modello. Vi chiederà di confermare che il dispositivo controlla un impianto di riscaldamento idraulico. Mettete il flag. Confermo il modello selezionato. E adesso cliccate su vedi istruzioni. Qui ci dà un'indicazione che serviranno semplicemente un tester, un prova fase, un cacciavite a stella ed un trapano per poterlo poi fissare a parete. Facciamo continua. Ci dice di staccare la corrente. Questo sempre per sicurezza. Diamo la conferma. Continua. Apriamo il termostato. Io ho già staccato la calotta. Poi naturalmente tutte queste indicazioni sono in base al termostato che voi avete. Il mio per esempio è su a pressione. Magari il vostro ha delle viti di fissaggio. Comunque vi basterà seguire l'indicazione. Qui ci dà sempre l'indicazione di controllare col tester prova fase se per caso arriva corrente da qualche parte su tutti i vari contatti del termostato. Qui ci dice che se per caso si accende vuol dire che c'è corrente naturalmente. Sembrano banalità però loro per sicurezza ve lo ripeteranno fino a far venire la nausea. Clicchiamo su continua. Ci suggeriscono di fare una foto ai cavi che escono dal muro e arrivano al vecchio termostato in modo tale da non dimenticarsi di come sono stati fissati. Facciamo continua. Nella confezione vengono date delle etichette quelle che vi facevamo vedere durante l'unboxing dove vengono riportati tutta una serie di nomi che poi trovate comunque sulla morsettiera del vostro vecchio termostato. Vi conviene staccare il cavo mettere subito l'etichetta di riferimento e poi dopo attaccarlo al Tado. Poi naturalmente leggete tutte le indicazioni ma da tutta una serie di suggerimenti per far sì di avere un'installazione più agevole. Ancora continua. Ci dice di allentare i fili, di rimuovere il vecchio termostato e adesso ci dobbiamo preparare ad installare il nuovo termostato. Quindi togliamo la copertura per poter accedere alla morsettiera di Tado. Andiamo a collegare i cavi. Qui ci dice di scegliere il tipo di installazione. Nel mio caso è il secondo. Escono i cavi direttamente dal muro. Facciamo continua. Ora ci dice di andare ad installare la placchetta che abbiamo. Adesso vado a fissare il termostato con le viti che sono state date in dotazione. Lo fissiamo al muro. Dovete ora andare ad inserire i cavi che avete precedentemente siglato con le etichette che sono in dotazione. Li inserite nella morsettiera nuova. E come vi ha fatto vedere Michi, non ha fatto nient'altro che riattaccare nella corrispondenza il no e il com. Ora rimettete il coperchio di copertura della morsettiera. Una volta terminato di attaccare i cavi, è chiuso il coperchietto, il vano. E andiamo ad attaccare il pannello frontale del termostato. Appoggiandolo prima nella parte alta e poi sentendo i due clic nella parte bassa. Ora continuiamo a vedere cosa bisogna fare. Ora ci dice di riattaccare la corrente. Se per caso la vostra caldaia è dotata di timer integrato, Tado penserà a tutto. Quindi non avendo il timer, facciamo continua. Complimenti e completato le istruzioni per l'installazione di questo dispositivo Tado. Quanto è stato facile installare Tado? Per quanto riguarda l'installazione, io mi sento di dare un 5 stelle. Cosa potrebbe essere migliorato? Quindi qui vi fanno anche un questionario per poter migliorare eventualmente. Una volta fatto salta, perché per me andava tutto benissimo, ci mette nella home, dove ci fa vedere che nella stanza è presente il termostato intelligente e il bridge. Proviamo a cliccare sul termostato intelligente. Ci dà il livello di batteria, quindi se per caso la batteria sta scendendo, penso che ci avverta anche sulla carica, in modo tale che possiamo sostituire le batterie. Ci dice che il suo stato è connesso. Questa è la home page. In alto trovate il nome della home. Finestre aperte. Se per caso ci sono finestre aperte, vi arriverà una notifica che vi avverte che c'è una finestra aperta e che quindi lui spegne il riscaldamento per economizzare. On e off per accendere e spegnere. La temperatura della stanza. Benessere ambientale. Clicchiamoci dentro e ci dà tutte le informazioni sull'aria che è presente nella stanza. Lo stato è buono. Il livello di polline è medio. È una condizione piacevole come temperatura. Torniamo indietro. Home. Geolocalizzazione. Serve a... Automaticamente lo imposterà se siete in casa, quindi vedete sotto quei cerchi. Quella è la casa. Io sono presente adesso in casa. Se per caso dovesse uscire da casa, passerà nella modalità di away, quindi fuori casa e regolerà in automatico il riscaldamento. Risparmio energetico. Questa funzione si attiverà e avrà la sua utilità nel momento in cui comincerete ad utilizzare il vostro Tado. Car and protect. Qui ci chiede se abbiamo una caldaia. Diamo sì. Chiede se abbiamo riscaldamento a pavimento o no, ma comunque poi farà tutta una serie di domande per avere il massimo del rendimento. e farvi risparmiare sempre di più. Aggiungi una caldaia. Selezionate la caldaia. Diamo conferma. E abbiamo impostato anche questo. Qui ci sono tutta una serie di servizi. Se per caso vogliamo l'intervento di riparazione, prenotare la revisione della caldaia, richiedere un preventivo per una nuova caldaia. Insomma, una app veramente fatta bene. Andiamo sotto nelle impostazioni. Nelle impostazioni ci dice che c'è la stanza 1 con il nostro termostato. Se per caso avessimo delle valvole in ogni stanza, potremmo avere più stanze. Andiamo in altro. In altro dà le solite informazioni. Quindi aiuto se per caso avete qualche dubbio. La community per poter far domande. Con App Analytics potete condividere la vostra diagnostica e le informazioni sul nostro dispositivo. Entriamo nella prima casella, quella gialla, dove segna 23 gradi. Dice che il termostato è impostato a 20 gradi e si può fare una programmazione intelligente. In questo momento ho 23 gradi in casa con umidità del 51%. Se io clicco su programmazione intelligente, mi dice di selezionare i giorni. Dopodiché posso dare una programmazione più dettagliata cliccando ad esempio sui 18 gradi. Questo per quanto riguarda la home. Quindi di base io ottengo 18 gradi. Impostiamo 19 gradi come base. Facciamo salva. Qui ci dà la possibilità di dire a che ora deve iniziare. Quindi da mezzanotte fino alle 7 meno un quarto. E facciamo salva. Vediamo prima le impostazioni avanzate. La geolocalizzazione. Questo è molto utile. A questo punto facciamo veramente salva. Ora andiamo dalle 7 meno un quarto fino alle ore 22 se ci va bene. Se no possiamo andare a cambiare la fascia oraria. E gli diciamo che deve stare a 22 gradi. Facciamo salva. Gli diciamo che dalle 22 fino a mezzanotte, che naturalmente finisce la giornata, deve riportarlo a 18 gradi. E facciamo salva. Cliccando su Away potete dirgli che quando siete fuori casa non deve mai andare sotto questa temperatura impostata. Noi mettiamo 17 gradi. Impostata la temperatura, torniamo indietro. Vediamo cosa c'è nelle impostazioni. La rotellina è in alto a destra. Ci chiede se vogliamo fare un avvio anticipato. Questo consente alla caldaia di partire un pochettino prima per far sì di arrivare alla temperatura in maniera più graduale. Io direi di attivarlo. E clicchiamo Fine. Per poter far partire la caldaia proviamo a mettere una temperatura di 24 gradi. Diamo Conferma. Vi dà il countdown fino alla fascia oraria che avete impostato precedentemente. Dopodiché alle 22 arriverà la temperatura che avete preimpostato. Dopo aver impostato i 24 gradi per vedere appunto il funzionamento andando a cliccare l'unico bottone presente ci dirà la temperatura attuale e l'obiettivo da raggiungere. Quindi 24 gradi con la manina che indica di alzare la temperatura. Prova effettuata. Il riscaldamento è partito. I caloriferi sono sempre più caldi. Naturalmente. Un'ovvietà. Dopo aver effettuato questa prova abbassiamo nuovamente la temperatura a 22 gradi. Diamo Conferma. La caldaia si spegne. Infatti si è acceso anche il Tado. È scattato. E abbiamo terminato. A questo punto bellissimo. Funziona tutto benissimo. Ma andiamola ad abbinare alla nostra amica. Prima di tutto dobbiamo andare a scaricare la skill Tado. Eccola qui. Questa gialla. La abilitiamo all'uso. Ci chiederà le credenziali. Ci chiede l'autorizzazione naturalmente per accedere all'account Tado. La forniamo. È già collegato l'account. Facciamo chiudi. A questo punto facciamo una ricerca dei dispositivi. E ci vediamo dopo. Ci ha dato l'errore di non aver trovato nulla. Ma come potete leggere in alto. Ha trovato un nuovo termostato. Quindi facciamo visualizza. Ed eccolo qui. Stanza 1. Schermata pulita. Semplicemente con la temperatura attuale. Schitta qui in basso. E quella impostata attualmente sul termostato. Naturalmente da qui dalle impostazioni in alto a destra. Possiamo andare a modificare il nome. In questo caso lo chiamiamo termostato. E da qui anche dall'applicazione della nostra assistente vocale. Possiamo andare a modificare i gradi. Ora proviamo a fare come di consuetudine per Tutotec. La prova effettiva. Imposta termostato 23 gradi. E il riscaldamento è impostato su 23. Termostato 22 gradi. E il riscaldamento è impostato su 22. Perfetto ragazzi. Installazione semplicissima. Vi ripeto. Ero molto ma molto spaventato. Perché con i termostati un filo, due fili, mezzo filo e non si saga. Comunque andate sull'app della Tado. Inserite il modello della vostra caldaia con la marca naturalmente. E vi dirà se è compatibile. Ma la cosa più bella. Il riconoscimento del nostro assistente domotico. Avete la possibilità come avete sentito di comandare tutto vocalmente. Potreste per esempio impostarvi una routine. Poi semplicemente dicendo ho freddo. E in automatico andrà ad alzare, non lo so, la temperatura a 23 gradi. Anziché i classici 21-22. Giusto? Per esempio. E quindi questa è un'ulteriore comodità di avere un prodotto che tra l'altro funziona veramente egregiamente. Vabbè Tado è una garanzia nel settore dei termostati. Decisamente. E la cosa bella è che potrete andarlo ad integrare con delle valvole termostatiche. Magari più avanti andremo a fare anche un video su queste. E gestire in maniera intelligente ogni singola stanza di casa vostra. Non spaventatevi se non vedete appunto le istruzioni all'interno cartacee da sfogliare del prodotto. Perché seguendo l'app è ancora meglio perché ci sono delle immagini in movimento. Quindi vi fa vedere esattamente che cosa fare ed è ancora più semplice. Assolutamente. Quindi per noi Tado promossa a pieni voti. Assolutamente. Veramente un ottimo prodotto. In riferimento a questo se volete acquistare questo prodotto vi lasciamo il link qui sotto in descrizione. Io direi Marco che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao. Ciao. Ciao.